Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! Su Amazon Prime Video è disponibile la terza puntata della prima stagione degli Anelli del Potere, ovvero la serie prequel spin-off del Signore degli Anelli! Oh ilala! Una serie che mi manda letteralmente in corto circuito il cervello, sì perché ci sono delle robe che mi piacciono un sacco, anzi sempre di più, e delle robe che non mi piacciono granché, anzi sempre di meno, quindi davvero il mio cervello non riesce più a raccapezzare. Proviamoci assieme in questa recensione più analisi con spoiler appunto del terzo episodio, insomma vediamo di trovare un ordine a questo episodio bello denso di avvenimenti e di robe, what the, e meno what the, ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, voi riscrivetevi al canale YouTube di Cosmopolinerd, che è lo stassino, iscrivetevi e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima e se volete supportarmi, oltre che sopportarmi, trovate un sacco di modi meravigliosi in descrizione a questo video, come la fantastica piattaforma Ko-fi, la mia wishlist Amazon, se volete farmi un regalo, andate a vedere che cosa vi garantisce il mio codice personale COSMO su Pampling, sito di magliette e articoli nerd, non ne resterete delusi, oh no! Bene, cioncio alle bande e balar! Alura, 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 com'è questo terzo episodio della prima stagione degli Anelli del Potere? Allora, secondo me comincia a far germogliare ciò che è stato seminato nelle prime due puntate, prime due puntate che sono sostanzialmente un lungo prologo della storia che ci verrà raccontata nel corso di cinque stagioni proprio da Amazon Prime Video. E' effettivamente stata fortunata e intelligente la scelta di trasmettere e mandare in onda, tra virgolette, scusate questi termini un po' desueti, due puntate invece che una nella prima settimana di release, perché appunto i due episodi assieme riescono a farci respirare meglio l'aria degli Anelli del Potere. Per alcuni può essere stata un'ottima decisione perché hanno apprezzato questa aria dolce, floreale, e per altri invece è stata una pessima decisione in quanto la ritengono velenosa, venevica. Comunque, a prescindere dai giudizi personali, secondo me da un punto di vista di scelta, di marketing, è stata intelligente. D'altronde Amazon Prime Video fa quasi così con The Boys, ovvero rilascia le prime tre puntate, poi le restanti delle varie stagioni, una puntata a settimana, quindi effettivamente ha assunto un comportamento che spesso la piattaforma dimostra nei confronti dei suoi prodotti originali. Allora, un terzo episodio che comincia a raccontarci un po' di più, perché appunto non è più un prologo, ma è una prosecuzione della storia raccontata dal prologo, questo vuol dire che sia un episodio con un ritmo sempre soddisfacente, sempre sostenuto quanto basta, sostenuto non nel senso di frenetico, ma un ritmo che ti mantiene incollato allo schermo, insomma, ho avuto qualche momento di cedimento in una particolare linea narrativa, in una particolare storyline, che già poco mi convinceva nei primi due episodi, in questo episodio mi convince ancora meno, ahimè. Ho trovato la regia forse un filo meno ispirata rispetto ai primi due episodi, tuttavia, da un punto di vista di effetti speciali, di trucco e parrucco, scenografie, insomma, è tutto estremamente figo, la confezione di questo prodotto è davvero strepitosa, straordinaria e ricchissima, e dentro la confezione, che non tutto mi convince, allo stesso modo. Quindi affrontiamo quello che c'è dentro questa splendida confezione, una storyline alla volta, una linea narrativa alla volta, e cominciamo parlando proprio degli Harfuts. Di Nori, l'uomo meteora, e di questi fantastici proto-hobbit, a cui mi affeziono sempre di più. L'ho già detto nello scorso video, lo ripeto qua, per me gli Hobbit sono il cuore pulsante del mondo creato da Tolkien, e si riconfermano il cuore pulsante anche all'interno degli anelli del potere. Quindi da questo punto di vista c'è una sorta di prosecuzione ideale, anche all'interno di questa opera seriale. Mi piace sempre tanto la loro parte, non li ho trovati ridicoli, gli Harfuts, sono rustici, sono adorabili. Mi piacciono tantissimo, mi piacciono tantissimo le loro usanze, anche come si entra di più all'interno dei loro costumi in questo terzo episodio, ho apprezzato tantissimo, ed è la storyline che più mi fa emozionare, che più mi tocca il cuore, effettivamente. Davvero, me lo sento proprio stringere in certi momenti, mi piace tantissimo il personaggio di Nori, che per quanto ricalchi certo il prototipo della ragazzina che vuole andare oltre, però è meno insopportabile di qualcun altro, è comunque molto più sfaccettata, è sicuramente molto più interessante, è colei che dà il là, è il motore della storia, perché infatti tutta la sua tribù, tutta la sua gente, vuole starsene schiscia, vuole starsene nascosta, non è molto curiosa riguardo quello che c'è fuori, invece Nori continua ad esserlo, ed effettivamente senza personaggi curiosi non esisterebbero le storie, buona parte delle storie, perché se tutti si accontentassero di starsene in poltrona tutto il giorno, quando inizierebbero le avventure? Dove sarebbero le avventure? Nei salotti vicino alle poltrone? Impossibile. Quella di Nori e i Harfuz, i proto-hobbit, riesce ad essere una storia sia divertente, buffa, che anche estremamente drammatica, perché quando c'è la sera prima dell'inizio del trasferimento, diciamolo così, tutta quella cerimonia volta a ricordare e ad attendere ancora coloro che sono stati lasciati indietro, coloro che sono anzi rimasti indietro, nelle loro migrazioni, nei loro spostamenti da location a location, ho sentito, ho provato emozioni, che è la cosa fondamentale, quando guardi un prodotto di intrattenimento, lo guardi per essere intrattenuto e per provare delle emozioni, per essere coinvolto sentimentalmente all'interno del prodotto che stai guardando e gli anelli del potere con la storyline degli Harfuz per me almeno ci riesce alla grande. Intanto ogni tanto butto un'occhiata sui miei appuntini analogici che sono molto 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 fitti. E ecco, è estremamente drammatica oltre che divertente perché considerate il dramma dell'essere feriti, dell'aver preso una storta terribile del papà di Nori e con tutte le marachelle compiute da Nori la sua famiglia è costretta a stare al fondo della carovana durante la migrazione, il che è terribile perché essendo il papà di Nori ferito, non al pieno delle sue capacità, rischiano di entrare nelle fila di coloro che sono rimasti indietro. Quindi è estremamente drammatica tutta questa parte qua e viene raccontata bene la profondità di questo popolo che riesce ad essere molto sfaccettato, tanto quanto la sua diciamo protagonista ecco, ovvero Nori. E poi è terribile scoprire che praticamente tutta la famiglia della sua amica, Poppy, è rimasta indietro, è rimasta uccisa durante una migrazione. Mamma mia che tristezza che mi ha fatto quel momento. E sempre la storyline più interessante per me perché il più grande interesse appunto che provo nei confronti di questa serie è ma chi è l'uomo meteora? Chi per dinci baccolina è? Sicuramente è anche sbagliato chiamarlo uomo, comunque d'ora un paio lo chiamerò il GGG, il grande gigante gentile, citazione di una splendida storia scritta da Roald Dahl, perché dal punto di vista degli Arfuz, di Nori è un grande gigante gentile. Ed è molto bello anche il momento in cui è quasi come se si spaventasse delle fiamme quando il foglio con quella costellazione rubato da Nori per lui prende fuoco. Insomma, quando viene scoperto dagli Arfuz, mi è piaciuto moltissimo. Poi mi ha quasi commosso un momento splendido, per me il momento migliore del terzo episodio in assoluto, ovvero quando aiuta la famiglia di Nori con il carro, alla fine appunto della carovana, e lo solleva da dietro, no? E dice a Nori, amici, dice friend, non so come l'hanno tradotto nel doppiaggio italiano, no? È bellissimo. Lì veramente sono rimasta commossa, perché è proprio questo che voglio vedere, questo che voglio provare fruendo un prodotto come gli Anelli del Potere. E quindi sì, mi è piaciuto un sacco e chissà chi sarà il GGG, il grande gigante gentile. Io le mie teorie continuo a pensare sempre di più che sia Gandalfo. Sì, perché il fatto che sia così amico degli Hobbit, o meglio, dei proto-Hobbit, non appena arrivato sulla Terra, ecco, è molto, è molto, molto, molto indicativo. Poi sicuramente sarà uno degli stregoni blu e tra l'altro vorrei farvi notare quando giustamente mi scrivete nei commenti Giulia, guarda che nel Silmarillion o in un'altra opera, in un racconto incompiuto, Tolkien ha scritto che i due stregoni blu sono arrivati su Arda, non nella Terza Era, ma nella Seconda Era, e però vorrei ricordarvi che Gli Anelli del Potere non ha né il Silmarillion, né i racconti incompiuti, insomma, non ha i diritti di quelle opere lì, solo ed esclusivamente della trilogia del Signore degli Anelli e delle appendici, quindi possono fare quello che vogliono, possono anche far arrivare Gandalf nella Seconda Era. Io continuo ad essere sempre più convinta che sia Gandalfo. Sì, tuttavia è uno degli star, appunto, uno dei cinque stregoni inviati dagli Tei per consigliare le popolazioni delle Terre di Mezzo e riuscire a sconfiggere Sauron una volta per tutte, quindi non sarà Gandalfo, sarà Gandolfo, lo chiamiamo Gandolfo, GGG Gandolfo, insomma, vabbè, decidiamo un po' come lo possiamo chiamare, però per me, insomma, io ho ste vibes pazzesche, what up. Adesso vi voglio parlare della storyline, della linea narrativa che mi piace di meno, che mi piaceva di meno nei primi due episodi e che continua a piacermi sempre meno, purtroppo, nonostante sia iper spettacolare sotto molti punti di vista. e sto parlando di Galadriel a Numenor e il suo fidato amico Aldo Brando, sì, ho deciso che lo chiamerò Aldo Brando, tanto è un personaggio che si sono inventati di sana pianta negli anelli del potere, non gli posso dare un nome io, cioè, per Dinci, va, insomma, posso e come. Allora, questa storyline è molto importante per le sorti di tutta la trama degli anelli del potere, è fondamentale, anzi, senza questa storyline molto probabilmente si farebbe molta più fatica ad andare avanti, no? Ok, tuttavia, è quella che ritengo più legnosa anche proprio da un punto di vista di scrittura, sembra che le varie storyline siano scritte da mani diverse a volte, sapete? E la trovo più legnosa, più lenta per quanto ricca di rivelazioni e di lore, cioè di costruzione del mondo e dell'universo narrativo attorno alle vicende raccontate negli anelli del potere, c'è qualcosa che non mi torna, c'è qualcosa che proprio non mi va giù e se già durante il primo episodio è stata proprio una parte della storyline di Galadria la farmi un po' sbadigliare, in questo terzo episodio succede la stessa cosa e voi mi direte Giulia, forse eri distratta quando hai visto l'episodio e l'ho pensato anch'io e l'ho guardato una seconda volta al terzo episodio prima di registrare questo video e mi sono ritrovata a sbadigliare nello stesso identico momento della prima visione. Quindi sì, Númenor è meravigliosa, è resa straordinariamente bene e poi non può che essere figa un'isola in cui i vestiti delle persone importanti sono soprattutto di quello splendido blu meraviglioso quel blu stupendo anch'io voglio andare ad abitare a Númenor tipo ora ok sono questi uomini molto più longevi degli uomini della terra di mezzo infatti vivono qualche secolo Aragorn è un discendente dei Númenoreani non vi dico che cosa succederà all'isola di Númenor perché sarebbe uno spoiler perché da questo punto di vista secondo me seguiranno pedissequamente gli scritti di Tolkien e ci mancherebbe altro non vi dirò niente per quanto riguarda re, mica re regina mica regina insomma che cosa succederà all'isola ai regnanti di questa isola alla popolazione di questa isola tuttavia vediamo per la prima volta in versione live action il regno fondato dal fratello gemello di Elrond ovvero Elros perché appunto Elrond nel momento in cui ha potuto scegliere se essere un umano o un elfo ha scelto di essere un elfo e il suo fratello gemello ha scelto di essere un umano comunque un umano potenziato super tipo The Rock una roba simile e appunto ha fondato Númenor e ne è stato il primo re ecco quindi tutto molto figo tutto molto bello tutto molto spettacolare ma vi posso dire che tutto il racconto del menage familiare di Elendil Isildur la sorella di Isildur eccetera eccetera mi ha interessato davvero fino a un certo punto ci sono già talmente tanti personaggi in gioco che aggiungere in maniera così approfondita anche loro con le loro dinamiche interpersonali veramente cioè fa scoppiare il cervello già ci sono un sacco di nomi un sacco di luoghi un sacco di vicende un sacco di robe importanti aggiungere anche questi tre qui ok sono importantissimi Elendil e Isildur tuttavia ragazzi cioè il cervello poi mantiene una certa quantità di nomi e una certa quantità di attenzione rivolta e dedicata a un prodotto di intrattenimento no quindi non lo so poi li ho trovate proprio le classiche dinamiche familiari degli anni 2000 cioè non lo so no mi sono interessate come ad un certo punto ho perso anche interesse nei confronti della stessa Galadriel quando va in giro con Elendil che in teoria dovrebbe tenerla d'occhio e vanno a consultare la biblioteca Wattà e fa bene anch'io sono andata a consultare la biblioteca Wattà ci mancherebbe altro però lei sulla spiaggia felice che fa la pubblicità della Pantene perché io valgo cioè in ralenti slow motion lei così ridente che in realtà sembrava le fossero entrate due mosche nelle narici cioè non lo so boh cioè perché perché tutte le cose che non mi gustano sono che non mi piacciono sono appunto relegate nella storyline di Galadriel e anche la stessa Galadriel mi risulta un filo meno insopportabile un po' perché mi sono abituata e noi esseri umani ci abituiamo a qualunque cosa quindi anche a questa Galadriel tuttavia non è che abbia fatto nessun passo avanti nella ricerca non delle tragie di Sauron ma di uno sviluppo di un arco di sviluppo del suo personaggio lei è proprio mono io vendetta io orgoglio io contro Sauron basta non vedo nient'altro ecco però vabbè c'è ancora tempo 5 episodi in questa prima stagione ma c'è ancora tempo diciamo interessanti le dinamiche da inciucio politico che si stanno profilando in quel di Numenor tra l'altro Numenor che se vi ricorda Mina Stirit diciamo che un motivo c'è ecco ma niente spoiler mi raccomando tenete bene a mente il cancelliere Farazon proprio lui il super hiper mega barbuto che sarà un personaggio centrale nel futuro di Numenor e non solo ah sì la rivelazione che quello non è il simbolo di Sauron bensì è una rappresentazione molto stilizzata di un'area geografica molto specifica della terra di mezzo sì quella che diventerà Mordor per dinci baccolina e quindi sì c'è questa sorta di piano segreto post sconfitta di Morgoth che prevede di trasformare quell'area lì delle terre meridionali in un regno insomma del male dei cattivi dei malvagi la casa di Sauron e quindi quella è una cosa che mi ha mi ha intrippato effettivamente per quello che vi dico che è molto importante la storyline di Galadriel che potrebbero impegnarsi un filo di più quando la scrivono ecco e poi allora tutto il grande segreto di Aldo Brando di Albrand che mi interessa veramente fino a un certo punto a quanto pare lui sarebbe il legittimo re della giuente delle terre meridionali che adesso si ritrovano chiaramente senza un capo senza un leader e quindi Galadriel cercherà di portarlo lì perché tanto lei vuole andare in quella che poi diventerà Mordor e quindi porterà Aldo Brando lì a fare il re e se lui si configurasse come uno dei re degli uomini ci ricordiamo gli anelli Sauron Achillidano e con nove li dà ai re degli uomini che poi vengono talmente tanto corrotti da essi che mi diventano i Nazgul quindi Aldo Brando è diciamo ancora nella parte figa cantante dei Nickelback prima di distruggersi completamente e diventare uno spettro un Nazgul Wattah forse il personaggio mi piacerà di più da Nazgul sapete sono una persona estremamente brutta e cattiva passiamo alla terza e ultima storyline affrontata all'interno del terzo episodio e a proposito poi farò anche dei riferimenti alla quarta storyline che in questo episodio è stata completamente ignorata ma sapientemente perché ci sono dei segreti Wattah che adesso cerchiamo di svelare assieme ovvero quella di Arondir ormai ha lasciato a bagnomaria la madre single e il simpaticissimo ragazzino Tio con la sua spadina stuzzicadenti del male malvagia ecco lui è stato rapito dagli orchi il che veramente ci fa entrare in maniera super faiga e anche abbastanza violenta nel mondo del male che sta corrompendo pian piano la terra di mezzo e sta distruggendo la natura della terra di mezzo ed è in questa storyline molto molto figa tutta la parte dedicata all'albero voi direte Giulia con tutte le robe action che succedono proprio la parte dell'albero sì perché cioè Arondir e gli altri come lui sono elfi silvani quindi hanno una strettissima connessione con la natura e trovarsi lì a dover uccidere letteralmente quest'albero maestoso con queste splendide radici perché gli orchi creature del male creature della distruzione quindi negazione stessa della natura della natura in quanto vita è un momento molto profondo molto filosofico anche e l'ho trovato molto forte dal punto di vista emotivo assistere al tormento che questi poveri elfi silvani schiavizzati provano anche soltanto al pensiero di dover distruggere quella splendida creatura che è quell'albero no e poi Arondir lo fa perché vuole salvare il resto dei suoi compagni dopo che quello a cui era più affezionato viene brutalmente ucciso dagli orchi lo fa con questa ascia e proprio anche l'apporto musicale della scena ne aumenta ancora di più il pathos Arondir che è un personaggio ricco di pathos e anche di gravitas della tipica gravitas che almeno secondo me ogni elfo dovrebbe dovrebbe esprimere quindi trovo Arondir molto elfico nonostante tutto no ed è interessante questa cosa perché lui è espressivo ma non è troppo espressivo anche l'attore trovo che interpreti molto bene il ruolo mi piace quanto sia sempre molto composto compito ma capace anche poi di lasciarsi andare in certi momenti è molto forte è molto duro indurito da decenni trascorsi tra gente che non gli voleva decisamente bene tranne la madre single quindi effettivamente ripensando il personaggio in questo modo quella frase super patetica del il tuo tocco gentile è l'unico che ho conosciuto in questa terra assume tutto un altro significato perché lui è un elfo quindi vive da tanti tanti anni tuttavia non è molto avvezzo all'amore e alle robe sentimentali quindi ci sta anche una frase così un po' un po' imbarazzante però sì dai è un personaggio che mi piace a Rondir mi piace anche come combatte cioè le robe whatta da elfo che compie mi sembrano molto più credibili di tutte le mosse super whatta compiute da Galadriel in combattimento a Rondir sì è un personaggio che mi piace e la sua storyline è estremamente drammatica e tragica e mi piace un sacco in tutto ciò sapete che io il drammatico e il tragico stralobbo e poi è molto interessante il fatto che gli orchi stiano cercando qualcosa in quelle sacche di gingilli no e gli elfi stessi ipotizzano che stiano cercando un'arma certo che lì ragazzi c'è pensavate che noi spettatori non ci arrivassimo alla cosa generalmente anche un filo meno un filo meno di Daskalik riusciamo a unire i puntini anche da soli senza che ci mettiate non so le insegne al neon per dire oh oh ragazzi guardate che gli orchi stanno cercando quella spata malfaggia che invece è stata trovata da Tio il figlio della madre singolo oh stanno cercando quella capito stanno cercando proprio quella ma va grazie comunque vabbè insomma un aiuto in più è meglio di un aiuto in meno e effettivamente questa storyline introduce un personaggio molto importante ovvero un tizio di nome Adar che gli orchi rispettano e ammirano come un padre infatti Adar potrebbe proprio significare padre allora è un generale l'unico che gli orchi rispettano tantissimo oppure è il loro creatore un elfo perché appunto Adar è una parola elfica un elfo caduto che ha ceduto al lato oscuro della forza e ha creato gli orchi già per Morgoth e adesso è il generale degli orchi il comandante degli orchi per Sauron e sta distruggendo le terre meridionali proprio per creare la sua amatissima Mordor potrebbe essere così guardate che però Adar non è sicuramente Sauron anche se gli elfi schiavizzati pensano che lo sia d'altronde dicono vabbè va un sacco di nomi questo vuoi che non ci abbia anche padre come nome te pare ecco secondo me no perché Sauron non ha molto senso che si riveli già adesso alla fine della terza puntata di una stagione composta da otto puntate e in una serie composta da cinque stagioni secondo me arriverà in un modo più subdolo sotto mentite spoglie perché comunque il Sauron della seconda era è un manipolatore è un tentatore è un personaggio di un altro calibro rispetto a quello che secondo me si rivelerà Adar che comunque sarà un suo tenente non so comunque sicuramente un suo servo in un modo o nell'altro perciò vogliono farci pensare che sia Sauron ragazzi secondo me non lo sarà assolutamente è colui che Sauron ha incaricato di trovare quella spada malvagia super Wattah che magari appunto era appartenuta a Morgoth che invece adesso vuole Sauron non so che tipologia di spada sia insomma lo scopriremo nelle prossime puntate perché mi immagino già dalla quarta puntata ritroveremo la madre single e suo figlio Theo e sapremo qualcosa di più riguardo questo suo gingillo del demonio allora in realtà secondo me Sauron arriverà nella quarta storyline quella che hanno sapientemente dimenticato all'interno di questo terzo episodio e sì sto parlando proprio della storyline di Elrond e Celebrimbor e voi vi starete chiedendo ma perché proprio nella storyline di Elrond e Celebrimbor c'è un motivo Celebrimbor che cosa vuole fare vuole appunto un aiuto per creare questa iper mega forgia figherrima entro tipo tre mesi no ecco perché serve l'aiuto dei nani nani che all'interno di quello scrigno custodiscono probabilmente il mithril perché sono andata a vedere quelli approfondimenti bonus che ci sono su Amazon Prime Video e si vede che tengono in mano un pezzo di mithril perciò sì fortunatamente è quel metallo strafigo che conosciamo anche all'interno del Signore degli Anelli della trilogia cinematografica perché appunto Frodo ne indossa una cotta di maglia oi boh comunque nani a parte allora tutta questa fretta per creare questa forgia cioè è un elfo Celebrimbor perché dovrebbe avere tutta sta fretta non ci possono mettere qualche mese in più qualche anno in più addirittura che gli frega lui è immortale praticamente quindi è strano vedere un elfo con tutta sta fretta e io ho pensato visto che quella forgia lì sarà fondamentale nella creazione appunto degli anelli del potere vuoi vedere che per caso Celebrimbor può essere stato già corrotto da un tale di nome Annatar che non so se lo sapete Annatar è è non ve lo dico ma è è proprio Iddo esattamente lui perché vedere Stealtho con tutta sta fretta ci ho pensato nel corso della settimana non ha molto senso ok Galadriel ha fretta di ritrovare Sauron perché vuole salvare tutti perché vuole far sì che ci siano meno vittime possibili lì è proprio una questione di tempo il tempo è fondamentale nella missione di Galadriel invece per un elfo che deve creare una forgia che gli frega puoi aspettare quindi secondo me vedrete che nei prossimi episodi sicuramente entro la fine di questa prima stagione apparirà questo Annatar questo simpaticone super che in realtà si rivelerà essere voi sapete chi ebbene sì queste sono le mie teorie super faighe ormai non cerco più di far quadrare le cose che dico con le opere di Tolkien tanto all'interno di questa serie è abbastanza inutile perché si prende spunto dagli scritti di Tolkien più o meno in maniera precisa più o meno in maniera sbattiamocene un piril quindi teorizziamo follemente anche voi scrivetemi nei commenti le robe più folli che vi vengono in mente a riguardo perché potremmo avere ragione tutti contemporaneamente o non avere ragione nessuno di noi insomma dopo i primi due episodi non avevo molto hype per il terzo episodio ma vi devo dire che con due storyline che mi sono piaciute su tre e considerando che quella di Elrond mi piace un sacco e dei Nani mi piace un sacco sono più positiva dopo questo terzo episodio anche se le cose che non mi erano piaciute nei primi due episodi riguardo qualcuno continuano a piacermi sempre meno vabbè credo che potrò mettermi il cuore in pace e continuare a godermi parzialmente gli anelli del potere il video è finito qui sì è finito qui aiuto un sacco